Nessuna ricorrenza da festeggiare o celebrare è semplicemente una data da ricordare. Nessun ebreo ha più nostalgia di un ghetto. Lo ha detto in apertura del concerto al Teatro La Fenice a Venezia, evento inaugurale del calendario ufficiale dei 500 anni del ghetto, Renzo Gattegna, presidente delle 21 comunità ebraiche italiane. Alla cerimonia La Fenice ha presenziato anche Laura Boldrini, presidente della Camera, che nel pomeriggio aveva visitato il Museo Ebraico e le tre sinagogue veneziane. Perché vedete che la minaccia terroristica è una minaccia globale, colpisce chiunque. Abbiamo visto in pochi giorni quello che è successo alla minoranza cristiana in Pakistan, ma abbiamo visto anche il campo di calcio in Iraq, abbiamo visto Bruxelles, quindi la minaccia è una minaccia che ci tocca tutti e noi dobbiamo collaborare di più. Per quanto riguarda l'Europa ritengo che noi dobbiamo avere più Europa, dobbiamo riuscire a avere una collaborazione su più livelli, quello di polizia, quello giudiziario, quello di intelligence. Questo è il momento forse di costruirla veramente questa Europa, di fare un salto e arrivare agli Stati Uniti d'Europa. Una giornata trascorsa l'insegna di una città sotto controllo da parte delle forze dell'ordine. Digo se antiterrorismo erano coadiuvati anche da agenti del Mossad. Venezia crocevia di cultura e città sicura, dichiarato Luigi Brugnaro. Leccesaria sicuramente, la sicurezza è fondamentale perché ci sia la libertà e si possa appunto parlare di integrazione, per cui senza regole non c'è integrazione. Credo che questa sia la città, una delle città più sicure al mondo, per cui continueremo con grande umiltà a fare il nostro lavoro, tutti fanno il loro lavoro. Io faccio il sindaco e questore fa il questore e il prefetto fa il prefetto, però mi sembra che tutti lo facciano bene, per cui poi per quanto mi riguarda lo diranno un domani i cittadini. L'orchestra del Teatro La Fenice si esibita nella prima sinfonia di Gustav Mahler, compositore viennese di origine ebraica. In platea anche l'ambasciatore israeliano Naor Gion, a dirigerla un giovane appassionato direttore, Omar Mai Velber.